Le immagini che vedrete in questo servizio sono la testimonianza di un caso umano che le istituzioni locali non hanno mai preso in seria considerazione e quindi teso una mano. Gli immigrati, giustamente, quando arrivano in Italia trovano ospitalità nei centri di grande accoglienza. Un italiano che vive però in condizioni disumane non viene nemmeno preso in considerazione. Questo è il caso del signor Vincenzo Dalentini che da oltre un anno vive da solo al primo piano di un'abitazione ubicata nel cuore del paese trasformata in un'amica di scarica e dove il bagno con gli scarichi otturati è stato trasformato in una piccola cucina dove gli alimenti si miscelano con gli escrementi. Il caso, fortunatamente, non è sfuggito all'attenzione del medico curante di questo paziente e dei vicini di casa che nel 2019 e quindi l'anno scorso hanno presentato una serie di esposti al sindaco di Lentini, all'assessore alla sanità del comune, all'assessore ai servizi sociali, al dirigente dei vigili urbani, al responsabile sanitario dell'ASP e al direttore sanitario dell'ASP di Lentini. Da mia constatazione diretta e su segnalazione dei vicini di casa scriveva il medico curante il mio paziente vive in condizioni igienico-sanitarie tali da recare serio pericolo alla salute propria e delle persone che gli risiedono accanto suscettibili da contaminazione ambientale da parte dei materiali biologici, escrementi, urine e sporcizie di vario tipo che questa persona non evita di dispensare copiosamente sul balcone di casa propria e in strada. Addirittura, mi viene riferito, continua il medico curante, è stato visto più volte nell'atto di urinare dal balcone di casa. Ne deriva, scrive ancora nell'esposto il medico curante, una situazione di fortissimo degrado personale e di ambientale che mette obiettivamente a rischio la salute complessiva del paziente e dell'intero vicinato. A questi esposti ci dicono oggi i vicini di casa di questa sfortunata persona e seguito solo un sopralluogo degli assistenti sociali del comune di Lentini che considerata la gravità della situazione non sono entrati nemmeno nell'abitazione. Da oltre un anno quindi questa persona vive nel più completo isolamento e in un'abitazione trasformata in un autentico tucurio, per non dire in una mega discarica. Nel bagno con gli scarichi otturati c'è di tutto e di più, una pentolina piena di alimenti e forse anche di escrementi su un fornellino che nemmeno nel paese più sperduto del terzo mondo si possa trovare. Il pavimento è pieno di escrementi umani, la spazzatura ha coperto ogni angolo della casa, mentre in un vecchio e lurido frigorifero si trovano depositati alimenti che nemmeno gli animali forse riescono a ingerire. Una situazione da terzo mondo che nel 2019 venne denunciata anche al sindaco di Lentini Saverio Bosco, il quale rispose, come ci hanno detto i vicini di casa di questo sfortunato lentinese, non poteva fare niente. Oggi la richiesta di aiuto è arrivata anche a noi, che ci siamo subito prodicati di documentare con le immagini questo caso pietoso e disumano. Oggi chi ha le responsabilità di agire e quindi di intervenire deve prendersele tutte perché non è umano lasciare una persona isolata ed in queste condizioni.